Allora signori vorrei in poco parlarvi che cosa siano le bombe chaff. Chaff significa pruna, scorza, quello con cui si fanno la grusca. Per esempio ci sta il riso, ci sta la scorza intorno, che so, ci sta il grano, ci sta la scorza intorno, questo significa la chaff. Allora, ora vi spiego bene o male che cosa voglio dire. Allora questo studio, questo video, lo sto facendo in base a un video che ho visto sul canale robe da cup, che mi metto tutto in descrizione comunque, che ha parlato un poco dei coriandoli, ha detto tutto quanto, un sacco di cose, ha fatto un buon video, però ci ha mancato che cosa, ci ha mancato di menzionare le bombe chaff, l'ha fatto vedere verso la fine del video, i mondiali del 2006, quando l'Italia vinse la coppa e fece vedere che, come cavolo si chiama, alla fine spararono i coriandoli metallici, tutti quanti dorati. Allora, quelli erano i cannoni chaff, però lui non li ha menzionati. Allora, sto facendo io qui, possiamo chiamarlo video risposto, chiamatelo come volete. Comunque, ho visto che non c'era nessun altro che ne parlava, come lo parlo io, allora l'ho voluto fare. Comunque allora, questo video si basa su quello che ha detto questo altro youtuber qua, poi su quello che ho trovato su wikipedia, per una volta magari ha detto qualcosa di buono wikipedia, sul metal gear, su un altro video che ho fatto riguardante la differenza tra materiale paramagnetico e un altro diamagnetico, se sono riuscito a caricarlo, e sul film twister, ora vi spiego un po', però prima di voler spiegare un po' una cosa, che cosa sono i radar, una cosa brevemente, il radar era un, questo è il radar, è un acronimo, cioè radio, vabbè non lo dico qualche altra volta, perché non me lo ricordo. Comunque dal radar si vengono fuori i microonde, perché un ricercatore vide che il radar gli faceva squagliare, se non mi ricordo male, la barretta di cioccolato che aveva in DASAC, poi dal radar sono venuti fuori i forni a microonde, perché il radar va a microonde, non è questo, questo è soltanto per ricordare. Allora, comunque metto in descrizione tutte le fondi da cui ho fatto queste cose. Allora, diciamo bene o male, dico pure un po' con le fatte le coriandoli, le bombe chaff si basano su dei coriandoli di metallo, i quali possono essere tipo fatti in alluminio, rame e questi in base a se loro sono paramagnetici, ferromagnetici oppure diamagnetici. Per questo ho messo pure il video, ho fatto pure quell'altro video per farvi capire un poco meglio. Allora, io qua per esempio ho dei materiali, no? Qui ci sta per esempio, questi sono delle polveri glitter che ho pigliate dalla ferramenta, però queste qui non sono, non so se sono fatti di ram, di cosmi, che con la calamita non si azzeccano. Questo, questo, questi due li ho fatti come da un altro, perché non la pigliate dalla ferramenta, chissà da quale altra parte. Comunque, questi qui ho visto che tutte quante non si azzeccano con la calamita, manco questa qui che è la carta stagnola, quella lì, delle sigarette, da una parte è carta, da una parte è questo materiale mezzo metallico. Con questi si possono fare i coriandoli per le bombe chaff, se no si potrebbe fare anche con, questo è un blister delle, come si chiama, uffa, delle pasticche, queste qui delle autilocks, quando si fanno queste cose qua, non so se ce la avete presente, alcune volte si possono staccarsi così e fanno proprio come se fossero dei coriandoli di, penso che sia alluminio questa cosa. Comunque, oppure si potrebbero fare sempre queste bombe chaff con, questo è il materiale si dovrebbe chiamare tetra brick. Comunque, questo qua è carta, alluminio, cioè dentro c'è un foglio di alluminio, praticamente come questo qui delle sigarette che però, che da una parte è metallo, da una parte è coso, però questo è pure, oltre alla carta che se ne è volata, ecco, ha fatto proprio la bomba a ciaffa, ha fatto. Allora, questo praticamente è una cosa che è incredibile, come si deve scalavare, come questo qui, praticamente è come quello la, però, soltanto che questo è il cartone, è molto più pesante, per questo si potrebbe fare, però è meglio, no, perché quello lì è più leggero, rispetto a questo qua. Comunque, è una varietà, se chi vuole che si può mettere a passare, a farsi, insomma, si potrebbe ripiegare un semplice foglio di carta e farlo con la grafite, perché pure questo qui è un materiale elettromagnetico, cioè, pure la grafite funziona come se fosse quasi, come un pezzo di metallo. Comunque, allora, volevo dire, praticamente sono, le bombe ciaffa sono dei coriandoli fatti di metallo, a che servono queste bombe ciaffa? Servono a far confondere un po' con i sistemi radar, però quelli un po' più scemi, perché quelli un po' più intelligenti, capiscono i falsi allarmi, cose, perché questi qua, questi materiali qua, vedete, alluminio, quell'altro coso là che se ne è volato, altre cose, questi qua possono disturbare, una volta che sono stati fatti e botte, potevo metterle pure in bocca, tossire e fa una nube, come quando si stanno, che so, uno sciame di api che sta volando, quando si fa tutto quello grosso sciame, quello proprio uno sciame di uccelli, si dice, non, stormo di uccelli, vabbè, stessa cosa, quando si fanno quella specie di grosse nubi, i radar più scemi vengono distorti, per questo ho detto Metal Gear, perché in Metal Gear fu la prima volta che senti parlare di queste bombe qua, erano proprio per, come posso dire, per distogliere le telecamere da, cioè quello che funzionano a radar, cose, poi possono essere anche, come cavolo si chiama, coadiuvate da, perché non è detto che una bomba debba, un bombon cannone debba sparare soltanto questi lamierini qua, può sparare pure, sia questi, che le polveri, cose, in base, si può farne tutto insieme, poi c'è dentro una bomba, tu ci puoi mettere quello che cacciape lo vuoi, allora, comunque questo qua, dovrebbero servire per, come si chiamano, per, eh, caccia, 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 io sapevo che dove venivano a rompere, allora, questi qui servono per distogliere il radar, perché ci stanno alcune, come si chiamano, potrebbero servire pure, perché il radar va a radiofrequenza, cioè, eh, quella lì del microonde, bene o male, però ci sanno alcune, eh, cose, che, persino, cioè, alcune frequenze, che, persino un foglio di carta, come questo qua, possono riuscire a deviare, cioè, non dico proprio a riflettere, diciamo, a confondere, perché posso sia riflettere, che rifrangere, comunque deviare, cioè, cominciamo a confondere il radar, il radar primo, però, eh, comunque, allora, questo è una cosa, eh, importante, eh, non so se ci avete presente, quanto, eh, ai, almeno succede una volta, perché adesso ci stanno i radar un po' più intelligenti, per esempio, adesso ci hanno fatto pure gli aeroplani, che sono invisibili ai radar, però, poi, hanno fatto dei radar un po' più intelligenti, che comunque le racchiappano a questi aeroplani, comunque, una volta, si dicevano ai piloti di volare basso, perché più voli basso, più è difficile, perché il radar ti confondeva lo stesso con il pavimento su cui volavi, questa era proprio una tecnica che si diceva ai piloti, volate basso, in modo che i radar vi confondano, che ne so, col terreno, con il mare, un po' che altro devo spiegare qua, i cannoni, caso male, qualcosa ce la raggiungo loco, ah, ci si è posto, a volte ai corrianti, queste bombe, ci affrebbero sparare, pure, i, come cavo si chiama, le stelle filanti, non so se siete presente, eh, dentro, ho visto soprattutto in Italia i cartoni animali giapponesi, che, eh, quelle c'avevano una specie di bicchiere, che tu schiattavi, facevi così e questo cosa, apriva e buttava le stelle filanti, dentro alla, ciuffa, dentro alle feste, e altre cose del genere, comunque, signor, le bombe giapponesi sono praticamente delle bombe fatte, oppure i cannoni giapponesi in area compressa, che spara dei coriandoli metallici, che sembra, sembra a confondere, mi sto prendendo in chiacchiere, soltanto per riuscire a capire, capire questa cosa, no, perché lui pensava, che, eh, quando si sente parlare di bombe, eh, signor, bombe, cose, che fa male, signor, un, la bomba è un oggetto inalmiato, cioè, è lo scemo dietro, che, pensa di fare qualcosa, qualcosa, però la bomba è una cosa inanimata, cioè, è quello che sta dietro, che decidi di farci fare male o bene, comunque ho parlato, che le bombe giappone possono avere le polveri, eh, ho parlato di armi, ah, sì, no, perché per esempio, pure il cannone spara magliette, no, uno sente parlare di cannone, però è quello spara magliette, che può fare sempre male, soprattutto se lo becchi in faccia, pure le bombe giappone, se ci stai vicino troppo con la faccia di, di fai male, il cannone c'ha, no, non bisogna mai mettersi davanti alla canna quello che spara, poi quest'atto, eh, ah, sì, il fatto del film Twister, eh, sì, eh, il film Twister che uscì qualche anno fa, eh, che faceva vedere che erano i ricercatori dei, dei, uffa, dei tornado negli Stati Uniti, vedi un'immagine, c'è, vedi una scena in cui usava una specie di palle che facevano l'elettromatrice, cioè che, eh, radio, che emettevano delle frequenze, in modo che quando ci stiva, sono tornato qua, no, dal computer si poteva riuscire a vedere tutto il moto di questo, il moto del vento che faceva, perché ci stivano queste pallette, eh, che i ricercatori, eh, liberarono in modo che, eh, si poteva riuscire a vedere, dal computer, come evolveva il, il Twister, il, l'uragano, eh, sto facendo un video che è proprio uno schifo, allora, amico, spero che qualcun altro lo vedi e lo faccio anche uno milione mio, para, eh, para, ma, pare che ho detto tutto, sì, questo l'ho parlato, eh, ho già parlato del, l'esperimento, cose, vabbè, ho messo un video a parte ho fatto, quella, la differenza che ci stanno tra un materiale diamagnetico e paramagnetico, così io, allora, in base ai materiali che vengono usati, eh, la confusione del radar è poco cambiare, perché se è paramagnetico, o, o, come si chiama quello altro, o ferromagnetico, quello c'è, si assorbe il, 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 il diamagnetico, invece è diamagnetico, tipo come il rame, quello, eh, riflette un poco, difatti, non so se ce l'avete presente, quando vengono quei, eh, come si chiama, quei uffa, quei braccialetti di rame, che dicono che cose, è quello soltanto perché riflette un poco i campi elettromagnetici, pure dentale e dinamo vengono usati, i rame perché, eh, deviano il campo magnetico, eh, che, stesso della terra, no? Non so se la dinamo può, stare pure dentale, può funzionare pure dentro lo spazio, eh, comunque, eh, diciamo che, eh, non è quello il, eh, senso del video, come c'è, le bombe chaff, eh, sullo spiegazione, un po' delle bombe chaff, a casa mia, su quello si può fare altri video, comunque, volevo farvi capire, il rame riflette un poco, eh, come cavolo si chiama, uffa, ah, 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 di onde elettromagnetiche, eh, dico sempre elettromagnetiche, perché sia elettiche che magnetiche, poi, la differenza l'una e l'altra, eh, 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 ma ci sta pure la differenza, campo elettico e campo elettico, però, non è questo il momento di farla, perché adesso, manco, me la ricordo tanto la differenza, comunque basta raggiungerci un po' così, perché ho detto tutto, casomai qualcosa per raggiungo dopo, tanti saluti!